Buongiorno a tutti da Ferrari Musica, distributori dei marchi Van Doren e Selmer. Noi siamo nel mercato da tantissimi anni con dei strumenti musicali a fiato e gli accessori per gli stessi. La nostra partecipazione a Cremona Fiere è il secondo anno e siamo stati motivati già dall'anno scorso perché abbiamo visto veramente un grande interesse dei visitatori a toccare gli strumenti che normalmente si vedono su internet ma qui c'è la possibilità di provarli come sentite dal rumore di fondo. Gli appassionati sono veramente tanti, fra i visitatori più importanti per noi sono i ragazzi che stanno studiando lo strumento nelle varie scuole e che quindi qui hanno la possibilità di confrontarsi con noi per avere informazioni su tecniche, sugli strumenti e sugli accessori. Credo che verremo anche il prossimo anno perché l'affluenza è interessante nonostante i tempi di crisi di tutte queste iniziative ma questa in particolare trovo che sia ben mirata per il target della nostra clientela. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto.